Parte dal prossimo giovedì 5 gennaio la maratona dei saldi invernali 2017 che si concluderà dopo 60 giorni il 5 marzo. In provincia di Arezzo, stando ai dati della ConfCommercio Aretina, sono 643 le imprese della moda interessate alle vendite di fine stagione per un totale di 979 punti vendita sparsi su tutto il territorio, dei quali 810 di abbigliamento e 169 di calzature e pelletteria. Secondo le previsioni della ConfCommercio Aretina, almeno 3 famiglie su 5 in provincia potrebbero approfittare degli sconti che nella maggior parte dei negozi partiranno già con percentuali piuttosto alte, dal 30% in su. Per quanto riguarda l'importo medio di spesa, nelle ipotesi più rose dovrebbe riconfermarsi quello degli ultimi due inverni, attestato attorno alle 396 euro a famiglia, poco più di 170 euro a persona. Secondo le previsioni di Confesercenti, invece, è prevista una spesa media a famiglia di 300 euro, in linea dunque con i dati dell'anno precedente. Per l'associazione di categoria di Via Fiorentina, per il futuro, inoltre, c'è bisogno di rivedere la data e di far rispettare alcune regole basilari. Perché il meccanismo dei saldi funzioni correttamente, ha dichiarato Valeria Albisi, servono controlli per bloccare i presaldi e contrastare le pubblicità ingannevoli. Ed è sempre la Confesercenti a retina a stilare il decalogo dei buoni saldi per commercianti e consumatori. Attendere il periodo ufficiale dei saldi, evidenziare l'oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici, riferiti poi soltanto ad alcuni articoli, ed ancora separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi in saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare la percentuale di sconto, accettare pagamenti con pago manco, mate e carte di credito, rendere visibile l'interno del negozio, rendersi disponibile a sostituire la merce, effettuare ripadrazioni se richieste dal cliente ed infine usare la massima cortesia.